ciao a tutti amici del canale oggi siamo qui con un nuovo video tutorial allora e cosa volevo farvi vedere oggi voglio fare un video molto semplice a tratti può essere anche una cosa quasi scontata banale ma in realtà secondo no secondo me probabilmente c'è tanta gente che forse non sa quello che sto per fare magari che esiste questo tipo di di situazione che si può fare allora cosa voglio fare voglio farvi vedere oggi come si cambia l'ora la data scusatemi come si cambia la data agli orologi che non hanno lo scatto rapido di data quindi per evitare tipo di fare il movimento di tutto le tutte le 24 ore c'è un modo per poter risolvere questo problema adesso lo vediamo insieme con questo vostro con questa anfibia e questo nupax appunto voluto prendere uno russo e uno svizzero e niente adesso cambia iniziamo dal vostro che poi finiamo con nupax eccoci qui in primo piano con il vostro allora per prima cosa avete già visto che sono oggi visto stravisto tantissime volte orologio collaudatissimo meccanismo affidabilissimo solo che appunto non hanno come i vostro ci insegnano e non hanno il lo scatto rapido di data e niente adesso vedremo per prima cosa cosa bisogna fare si svita la ghiera e la corona la corona che qui come sappiamo è a vite e ovviamente tiriamo per scorrere appunto le lancette allora facciamo un esempio adesso siamo a 30 io giro normalmente perché bisogna far scattare adesso siamo a 31 ok ha scattato al 31 adesso se noi vogliamo arrivare all'uno invece di fare un giro completo praticamente della della corona e dell'arco delle 24 ore cosa facciamo andiamo indietro andiamo indietro 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 io direi di abbondare arrivare fino alle sette e mezza e poi di nuovo andare avanti ed eccoci qui è scattata l'ora scattata scusate la data rifacciamo di nuovo qui bisogna stare attenti perché la ghiera la corona si può avvitare si ritorna indietro si riva avanti ed ecco qui che alle 3 scatta l'orario quindi questo è un piccolo trucchetto appunto per evitare di stare a girare tutte le 24 ore perché altrimenti ci vuole veramente tanto e magari l'orologio si è fermato che ragionano 2 come in questo caso e magari ne abbiamo 26 quindi 26 come oggi quindi per evitare comunque un'operazione abbastanza semplice io ripeto l'ho collaudata su questi due anche altri modelli e funziona altri vostro che ho non so se vale questo di questo sistema per tutti gli orologi che hanno non hanno lo scatto rapido di data adesso vediamo il nupax ed ecco qui davanti al nostro splendido nupax il nupax è un orologio che ho fatto vedere pure su questo canale veramente bello raccontato di tutto con il quadrante breguet i numeri gli indici breguet se conti ore 6 veramente 17 rubini anti shop per me è un orologio veramente bellissimo perché questa cassa così veramente particolare mi piace che appunto ha perso la sua cromatura il bracciale l'ho messo io e anche se forse un pelle ci starebbe veramente bene però alla fine i cinturini si possono cambiare mi piace proprio perché ha questo effetto vissuto negli anni l'unica cosa che ho rifatto è stato il quadrante il il vetro che in plexigas l'ho lucidato e faremo anche un video sulla lucidatura dei dei vetri degli orologi allora cosa abbiamo qui abbiamo che adesso siamo giorno 11 facciamo lo stesso procedimento per tenerci adesso arriviamo a mezzogiorno si facciamo scattare di nuovo la mezzanotte facciamo scattare il 12 ed ecco qui scatta il 12 stesso questa differenza del vostro questo movimento che su base età o se non è un età forse un età proprio a differenza la mezzanotte scatta precisa al passare delle della mezzanotte e invece al vostro come abbiamo visto scatta intorno tra le due e le tre scatta la data qui invece no scatta subito cosa facciamo facciamo la stessa cosa andiamo indietro io ripeto vi dico sempre di arrivare almeno fino alle 7 si riva di nuovo avanti e scatta il 13 andiamo di nuovo indietro e scatta il 14 andiamo di nuovo indietro e scatta il 15 qui è molto più immediato perché la corona è molto più fluida scorre molto più semplice con questo tipo di nupax con questo tipo di orologio scusa con nupax appunto e quindi niente il video vuole limitarsi a dare questo questi questi consigli a chi non sa appunto che gli orologi che non hanno lo scatto rapido di data lo scatto rapido di data si intende quando ci sono due tiri del della corona questa è la prima dell'alberino veramente questi quelli che non hanno lo scatto rapido di data hanno solo praticamente il primo scatto che regola solo ore e minuti invece quelli che hanno scatto rapido di data hanno il primo scatto che regola la data il secondo che scatta che appunto serve per la regolazione dell'ora io sembra sembrano cose banali però questo video è riferito anche appunto lo voglio fare lo lancio anche per persona l'ho fatto appunto per chi dell'orologeria non mastica magari si ritrova nel cassetto compro l'orologio un mercatino chissà dove e si ritrova ma qui non funziona lo scatto rapido non funziona la data magari abituati agli orologi che hanno appunto lo scatto rapido di data quindi questo video va appunto per questo tipo di pubblico non quelli che appunto già sanno sono più esperti sono appassionati del settore magari come noi quindi ecco perché spiego millimetro per millimetro perché potrebbe vederlo chiunque esperti non esperti insomma è per tutti e niente ragazzi il video si conclude qui abbastanza breve niente di eclatante molto semplice come tutorial fondamentalmente ho preso appunto voluto differenziare prendendo due orologi uno russo e uno svizzero in modo appunto da differenziare e non magari più possibile ripeto altri vostro che hanno questo tipo di meccanismo tempo fa avevo nevilard che aveva anche come il nupax aveva questo sistema però bene o male funzionano tutti chi quando non hanno lo scatto rapido di data bene o male funziona tutto tutti così quindi riepilogando si arriva alla mezzanotte si fa scattare la data si va avanti cioè insomma si fa scattare la data del giorno dopo poi si arriva indietro io consiglio di arrivare sempre fino alle 7 e così via si arriva di nuovo davanti e si si cambia è un po rognoso però meno rognoso sicuramente di fare le 24 ore giro completo niente ragazzi grazie per aver visto questo video spero vi sia stato utile se vi è stato utile commentate mettete like condividete e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così non vi perderete nessun video quando uscirà e niente ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao